Dicevo anche prima, è la filosofia quella che praticamente dobbiamo cercare di contemperare la situazione della presenza dei migranti sul nostro territorio, che poi è una situazione ormai diffusa in tutto il territorio nazionale e cercherò sempre più di applicare la possibilità dell'accoglienza diffusa su tutto il territorio, ho saputo già dai colleghi, dalle prime informative che mi hanno dato che su 33 comuni 21 ospitano dei CAS, però possiamo a poco a poco, parlando ovviamente sempre condividendo con i sindaci e con le realtà locali, la possibilità di poter trasferire e distribuire in maniera proporzionata, così come è stato stabilito dall'accordo tra Lanci e il Ministero dell'Interno, un'accoglienza diffusa che sicuramente può essere vincente anche per quanto riguarda l'integrazione delle persone che noi ospitiamo. Grazie a voi.